Noi non abbiamo messo in campo l'imprenditoria per scelta, ritenendo che così ci siano dei soggetti che possono in questo lavorare, li accompagniamo, cerchiamo di essere vicini, cerchiamo anche di correggere, ma anche di incoraggiare l'accoglienza, rendendola possibile. L'accoglienza della chiesa è prevalentemente volontariato. Monsignor Cipolla, alle porte del cimitero maggiore nel giorno dedicato ai defunti, parla dei profughi ospitati, oramai da mesi, nelle parrocchie della diocesi padovana, prendendo le distanze dalla polemica legata al business della gestione dei migranti sul territorio. E lo riprende anche durante l'omelia nella chiesa del cimitero di Via Chiesa Nuova. Sono i giorni che andiamo per fare del bene, per compiere solidarietà, carità, fraternità. Abbiamo del tempo a disposizione. Dobbiamo dare valore a tutti i giorni della nostra vita attraverso la carità. La morte sarà il nostro atto più grande, il messaggio di Monsignor Cipolla nel giorno dedicato ai defunti. Dopo l'omelia, il vescovo, seguito da molti parroci delle parrocchie della città, ha benedetto le tombe. Nelle parole ai giornalisti, anche il rammarico per una festa oramai retrocessa a un giorno lavorativo qualunque, svuotandola del suo significato. Resta ugualmente una giornata da vivere nella fede. Sono due giornate che si assomigliano. È la celebrazione della nostra fede cristiana fondamentale nella risurrezione di Gesù, che coinvolge anche noi. E credo che questo possa essere accompagnato dalla struttura sociale, ma che debba essere comunque vissuta dalle comunità cristiane innanzitutto. Grazie.